I cani che siano randaggio che siano domestici al centro della cronaca e della politica Santa Maria di Licodia. Di martedì la doppia notizia su una ragazzina morsa da un cane randaggio e di una petizione online che chiede la realizzazione di un'area di sgambamento per cani dopo l'ordinanza del sindaco Totò Mastroianni che vieta l'accesso al migliore amico dell'uomo nelle aree e nei giardini pubblici. Abbiamo intervistato il primo cittadino sulle due questioni. Iniziamo dalla prima. Come fronteggiare il randaggismo? L'amministrazione sta intervenendo facendo un controllo su quella che è la struttura dove noi ospitiamo i cani. Per un periodo e poi questi stessi cani dovrebbero essere reimmessi nel territorio e faremo questi controlli. Cioè se effettivamente questa azione venga svolta in maniera positiva o meno. La seconda cosa è che ci avvaliamo di un'associazione che è Porci l'altra Zamba che insiste nel territorio di Santa Maria di Licodia. E' in corso una sterilizzazione delle cani per non consentire la proliferazione di altri cani? Sì, questa è in corso anche se non è velocissima perché l'associazione ha dei mezzi molto limitati e l'associazione che la porta avanti la sta portando avanti con cura e con discrezione. Quindi penso che avremo una nascita di cani in randaggi limitata per quest'anno. I proprietari di cani lamentano l'assenza di un'area di sgambamento dopo l'ordinanza che ha chiuso i giardini pubblici. E' partita una petizione online per chiedere un'area per cani. Quando sarà possibile realizzarla? L'area per cani io penso che l'anno prossimo ci sarà un progetto proprio per farla. Il progetto lo presenterà l'associazione Porgi l'altra Zamba, quindi gente che ama i cani e sicuramente porterà avanti quest'idea e questo progetto, così a Santa Maria di Gondia si avrà un'area di sgambamento per i cani. Sono venuto a conoscenza di un'azione da parte di alcune persone sulla ordinanza che ho fatto proprio sui cani e c'è una raccolta firme perché secondo loro io sono troppo aggressivo sui cani. Mentre di fatto poi vanno a provocare dei danni alle persone. Certo, bisogna distinguere i cani in randaggi dai cani padronali, dai cani controllati e quant'altro. Ma questo lo faremo con calma, faremo un censimento ed è mia intenzione prossimamente di mettere anche una tassa su coloro che hanno i cani e soprattutto che sporcano il paese senza portarsi dietro gli attrezzi che la legge prevede.